Eusebio di Cesarea Eusebio di Cesarea, data del trapasso 339 d.C., vescovo e scrittore greco antico, consigliere e biografo dell'imperatore Costantino I, ha scritto un primo dramma su Mosè che ci è giunto in frammenti. Nel dramma di Eusebio, Mosè conversa con Dio. Il Medioevo parla poi di Mosè nell'ambito di più ampie trascrizioni della Bibbia, ma solo nel Rinascimento la grandezza di Mosè trova un riconoscimento poetico con Diubartà, che nel poema su Mosè all'interno dei suoi canti epici tradotti in La Semen della Creazione du Monde, narra di un Mosè che vive una ricca vita rinascimentale e che grazie all'esperienza del roveto ardente si converte a servo di Dio e diventa precursore di Cristo. Gli antichi credevano negli dèi che non avevano mai visti e noi diciamo che credevano nelle leggende, ma molti secoli dopo noi non crediamo nelle leggende come quella di Mosè che non abbiamo mai conosciuto. Che cosa cambia? Commento Cambia nei molti che iniziano a credere nell'assoluto che comprende e giustifica tutte le leggende da quelle degli dèi a quella di Mosè.